Te lo do io l'amplesso con il nano, fai i spurcellamenti, il rapporto aperto, ce lo do il rapporto aperto a quello, il rapporto a mano aperto, a schiaffo, la legge bastonata, la legge bastonata, ci faccio fare la posta. I fratelli che li trovi? Marò! Che è quello? Che fate? Vi inguattate dei sotterfugi per fare gli schiaffi? Ma chi l'ha che schifo? Come chi l'ha che schifo? Sono in perno, attorno a me ruotati come dei pianeti, fa piacere, chi è questo? Va a vedere. Ma questa è roba giusta, un ospite primissima, roba mia personale, vai tranquillo. No, questa è droga pesante, sate. Che pesante. Sta' attento ai droghiere che ti strappa tutti i capelli, guarda come vai ridotto a mio fratello. Ma che ridotto che sembra un fiore? Dai! Mi fa schifo a me che sto suo fratello, dai, levati di mezzo. Vai vip che ti riducono. Va bene, dammi dietro la mia... Questo è sequestrato, va che c'è mio ghizza, va che c'è mio ghizza. Levati di mezzo, parole di torscatenato, ti spettaccio. Sequestrato! Ti spettaccio! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! Guarda, i babb si fai salto di venti e c'è di me la topa. Tu, fratello Froggio, un altro drogato! Non è che scemo! Non reagire, vieni a casa, guarda, ti tiri i collo! Tu sei un'altra cosa, queste spinacce. Mmmh! E' un po' di altri mondi, altri paesi. Con tutta mia intesa, con tutti i miei itali Rivera, Lucio Dalla, Vode Island, tutto... Già, Ipprito. Veramente eccezionezza io e credevo. E poi ho voluto una fama tremenda qua. Grazie a tutti.